Si sblocca la procedura per realizzare l'abbattimento del Misericordia e Dolce. L'AS Toscana Centro ha affidato il lavoro in via definitiva alla terza ditta classificata della gara d'appalto di questo importante cantiere che una volta terminato lascerà il posto alla realizzazione del parco urbano da parte del Comune. La demolizione del vecchio ospedale sarà eseguita dal raggruppamento costituito dalla Rad Service di Gubbio con la Cosmo Ambiente e la Cosmo Scavi della provincia di Venezia. I controlli sulla documentazione sono andati a buon fine, al contrario di quanto accaduto con le prime due classificate, la DAF Costruzioni e la del Debbio, che sono state escluse proprio per la presenza di attestazioni non conformi alla legge. Con questa giudicazione definitiva si sblocca una situazione complessa che si trascinava da ben otto mesi, da quando cioè si è tenuta la gara d'appalto. Tra dichiarazioni mendaci, ricorsi al TAR, documenti mancanti e burocrazia varia, siamo passati dalla prima alla seconda classificata e poi dalla seconda alla terza. L'effetto domino si ferma qui, raggruppamento d'impresa capeggiato dalla Rad Service a tutti i documenti in regola per aprire il cantiere, anche se il percorso non è ancora tutto in discesa. Incombono due variabili, la prima è la decisione del TAR sul ricorso della prima classificata contro l'esclusione a favore della seconda. L'udienza nel merito è prevista per il 10 aprile. Ipotizzando che il TAR non riservi sorprese, ci sono poi tempi burocratici per la consegna del cantiere che in genere prevedono un mese di stop. L'ASL potrebbe decidere di adottare la procedura d'urgenza per motivi di sicurezza considerate le numerose intrusioni dentro il misericordia e dolce, l'ultima ieri. Nel caso il contratto potrebbe essere firmato a metà aprile, la consegna del cantiere avvenire tra la fine del mese e l'inizio di maggio. La prossima settimana saranno sciolte entrambi i nodi. Se ne potrebbe presentare un terzo, ossia il ricorso al TAR della quarta classificata, sarebbe l'ennesima tegola caduta su un appalto disseminato di imprevisti e di conseguenza di ritardi.